Abbiamo fatto finta di niente troppo a lungo e poi ci siamo accorti che stava diventando tardi forse possiamo ancora tornare indietro riappoggere il nastro resistere e proteggere quello che ancora possiamo salvare riconnettere tra loro le aree protette d'Italia restaurare gli habitat che abbiamo contribuito a distruggere riportare in natura specie che stanno scomparendo è quello che facciamo da sempre ma oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto grazie a tutti grazie a tutti